Ok, non ci fermiamo a parlare con l'arbitro, perché questi vogliono proprio questo, innervosirci, iniziare a cacciare i cartellini, facciamo la nostra partita, quando stiamo giocando abbiamo qualità, giochiamo meglio di loro, dobbiamo essere positivi, tranquilli, l'importante è lucidi, con la testa, freddi, difendiamo come stiamo facendo, quando abbiamo noi palla facciamoli girare che non ci prendono, però arrivate ai 30 metri ci dobbiamo prendere più rischi, più rischi vuol dire se devo puntare e calciare, punto e calcio, devo andare per far gol, se devo andare ad attaccare con Mitch, con Svambert, o chi attacca sempre per la transizione positiva, Gheri ci organizza le marcature preventive, gli altri, con coraggio, andate a chiudere l'azione, l'importante è che quando andiamo di là dobbiamo chiudere l'azione, non dobbiamo perdere palla ai 30 metri facilmente, perché solo lì ci stanno ripartendo.